musica musica insomma, in realtà c'è soltanto un video sì, appunto, al massimo il video allento è un gruppo Va, 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 va. Ah 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 Scusate Fermati adesso perché dove è tutta scherzata Tipo il guardia Scusate 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 Grazie a tutti. 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 A parte che c'è gioco sullo sterzo. No, si svuota completamente. Mettilo giù. Metti giù la bici. Dai un po' di pumpate. Perché si svuota così? Non piscia? No, no, c'è dell'aria dentro. Solo che tirando la su, l'aria che c'è qua, che va bene che sia nella vaschetta, ti va nel circuito. Quindi facendo così. Yeah. So, l'aria che c'è? vai vai Sì, ma da fermo, solo che ho girato tutto Sì, ma da fermo